Ciao a tutti, pischelletti di Ezio Vostro e bentornati sul mio canale didattico Diago di Spiago nella sezione della matematica. In questo primo video su come ricavare l'equazione della parabola vedremo come ricavarla se conosciamo due di tre elementi tra vertice, fuoco e direttrice. Per affrontare questa lezione dovrai conoscere quindi, oltre all'equazione generica della parabola, le coordinate di vertice, fuoco e direttrice in funzione di A, B e C. E poi dovrai sapere risolvere i sistemi di tre equazioni intraincognite. Fondamentale, mi dispiace. Se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo immediatamente oppure seguimi su Instagram. Vediamo se capisci qualcosa, va? Cominciamo con questo nuovo video che apre una serie di piccole video-lezioni in cui impareremo a ricavare l'equazione della parabola, note determinate condizioni. In questo particolare video vedremo come ricavare l'equazione della parabola conoscendo due elementi tra vertice, fuoco e direttrice. E vedremo tutti i casi, quindi vertice, fuoco, vertice, direttrice, fuoco e direttrice. Cerchiamo però di capire come al solito che cosa vogliamo andare a fare. Fino adesso abbiamo sempre visto degli esercizi in cui l'equazione della parabola era un'equazione nota. Quindi l'equazione generica ax² più bx più c era in realtà un'equazione in cui a, b e c assumevano dei valori ben precisi. E noi l'abbiamo utilizzata per tutta una serie di cose, tipo fare il grafico della funzione, verificare se fosse tangente ad una retta e trovare l'equazione della retta tangente alla parabola passante per un punto. Adesso la questione è ben diversa perché noi non conosciamo l'equazione della parabola, o meglio, non conosciamo, i valori di a, b e c. Sappiamo soltanto che questa parabola deve rispettare determinate caratteristiche, cioè avere un certo vertice, avere un certo fuoco o una certa direttrice. Mi piacerebbe quindi molto trovare un modo veloce per trovare i coefficienti a, b e c. E per fare questo devo ricordarmi necessariamente quali sono le espressioni delle coordinate del vertice e del fuoco e le espressioni della direttrice, sia nel caso di parabola con asse parallelo all'asse delle y, sia nel caso di parabola con asse parallelo all'asse delle x. Andiamo a vedere quindi come utilizzare queste espressioni per ricavare i valori di a, b e c della nostra parabola. E partiamo subito dal primo caso, che è il caso in cui ci vengono fornite le coordinate del vertice e del fuoco della nostra parabola. E noi dobbiamo trovare i valori di a, b e c. La prima domanda che vi deve venire in mente è Ok, ma quale tipo di parabola è? È una parabola con asse parallelo all'asse delle y o è una parabola con asse parallelo all'asse delle x? Perché capite bene che la questione cambia molto. Se infatti la parabola che dobbiamo andare a trovare è quella con asse parallelo all'asse delle x, allora i valori di a e b e c corrispondenti devono essere trovati utilizzando l'espressione x uguale a y quadro più by più c, piuttosto che y uguale a x quadro più bx più c. E questo quindi cambia tutto perché devo scambiare banalmente la x con la y del vertice. In questo caso non ci viene detto se la parabola è con asse parallelo all'asse delle x o all'asse delle y. Per guardarlo mi basta capire le componenti del vertice e del fuoco. Posso infatti notare che sia il vertice che il fuoco hanno lo stesso valore della x. E quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire che loro si trovano su una retta verticale di equazione x uguale a meno 3. Se infatti vado a prendere questi due punti sul piano cartesiano vedete che loro devono trovarsi necessariamente sull'asse di simmetria per come è definita la nostra parabola e quell'asse di simmetria è proprio l'equazione x uguale a meno 3. È quindi chiaro che sono in presenza di una parabola con asse parallelo all'asse delle y e quindi devo utilizzare la prima equazione e anche la prima serie di caratteristiche di vertice, fuoco e direttrice. Come posso fare a trovare i valori di a, b e c? Siccome devo trovare tre incognite e dovrò necessariamente impostare un sistema di tre equazioni in tre incognite da ognuna delle quali andare a ricavare un valore di un'incognita. E come lo posso impostare questo sistema? Beh, proprio utilizzando l'espressione del nostro vertice e del nostro fuoco. Sappiamo infatti che cosa? Che la coordinata x del nostro vertice può essere scritta come meno b fratto 2a. E quindi se io pongo quella quantità uguale a meno 3, vedete, bam, ho ottenuto la prima equazione. Da dove posso andare a ricavare la seconda equazione? E beh, se dalla x ho ricavato la prima e dalla y andrò a ricavare la seconda, io che cosa so? Che la y del nostro vertice può essere scritta come meno delta fratto 4a. Quindi mi basta dire che quella quantità meno delta fratto 4a deve essere proprio uguale a 1. La terza equazione da dove me la vado a ricavare? Eh, ho finito di sfruttare il vertice, adesso devo andare a prendere il fuoco. Ora, anche per il fuoco potrei dire, vedete, che la x si scrive meno b fratto 2a. E però capite bene che è un'equazione esattamente identica alla prima, quindi non c'è bisogno di riscriverla. Andrò invece ad utilizzare la y. E dirò quindi che 1 meno delta fratto 4a è uguale a meno 3 quarti. Ed ecco fatto il nostro sistema di tre equazioni intraincognite. Ora, ragazzi, devo semplicemente risolverlo. E badate bene che una volta che avete capito questo qui, l'altro caso, vertice e direttrice e fuoco e direttrice, si fanno esattamente nello stesso modo. Quindi risolviamoci una volta per tutte questo sistema e poi negli altri andiamo più veloce. Cosa è conveniente fare per risolvere questo sistema? Mi conviene trovare subito la b dalla prima equazione, perché è molto molto facile, no? Mi basta cambiare disegno e moltiplicare per 2a a destra e a sinistra. Quindi in questo caso otterrò che b è uguale a 6a. Adesso il problema grosso riguarda la seconda e la terza equazione perché lì c'è delta e noi sappiamo che delta è b quadro meno 4c, quindi dovremo andare a scrivere b quadro meno 4c fratto 4a uguale 1 e andarci a ricavare a, b e c. Però vi propongo una strategia migliore. Dalla seconda equazione, esattamente come abbiamo fatto per quanto riguarda la prima, ci andiamo a ricavare il valore di delta e anche qui, cambiando disegno e moltiplicando per 4a, ci viene che delta è uguale a meno 4a. Ora non mi vado a scompattare il delta, cioè non vado a scrivere b alla seconda meno 4c uguale meno 4a perché poi l'equazione diventa veramente noiosa. Quello che faccio invece, che è più conveniente, è prendere questa quantità meno 4a e ficcarla dentro il delta della terza equazione. che mi verrà 1 meno meno 4a, quindi più 4a, fratto 4a uguale meno 3 quarti. E vedete che la terza adesso è diventata un'equazione tutta in a che io mi vado a risolvere per trovare proprio il valore di a. Quindi la prima e la seconda me la ricopio, la terza cosa faccio? Mi basta fare il minimo comune multiplo che ovviamente è 4a e moltiplicare a destra e a sinistra per quella quantità. Quindi da questa parte se ne va a, di qua se ne va il 4 e ottengo l'espressione 1 più 4a uguale meno 3a. E da qui sono quindi in grado di dire che a è uguale a meno un settimo. Ecco qui ragazzi, una volta che ho trovato questo valore, cosa faccio? lo vado a ficcare subito qui dentro, dentro la b. E quindi mi trovo che b sarà uguale a meno 6 settimi. E a questo punto sì, devo andare a spacchettare il mio delta, chiamandolo quello che è, cioè b quadro meno 4c, per trovare il valore di c. Quindi so che b quadro meno 4ac è uguale a meno 4a, al posto di andrò a mettere meno un settimo, al posto di b meno 6 settimi. Sostituendo quindi otterrò questa bellissima espressione e da lì mi andrò a ricavare il valore di c. Risolvendo quindi questa piccola espressione ottengo il valore di c che è pari a meno 2 settimi. E a questo punto ho veramente tutto, perché vedete ho trovato a, ho trovato b, ho trovato c. Non mi rimane nient'altro che scrivere l'equazione della mia parabola, che sarà y uguale meno un settimo x alla seconda, perché ho messo meno un settimo al posto di a, meno 6 settimi x e per finire meno 2 settimi. Non è molto bella da vedere per tutti quei set al denominatore, ebbè ma questa è l'equazione della nostra parabola. Un lavoro ben fatto! Adesso passiamo a vedere il secondo caso in cui conosciamo vertice e direttrice e vedrete che non cambierà granché. Quindi in questo secondo caso conosciamo le coordinate del vertice, meno 5 mezzi, 2, e l'equazione della direttrice, che attenzione è una retta verticale, perché è una retta di equazione x uguale meno 3 mezzi. E questo ci dà un'informazione molto, molto importante. E per quale motivo? Se la direttrice ha equazione x uguale meno 3 mezzi, vuol dire che la nostra parabola non può essere una parabola con asse parallelo all'asse delle y, perché vi ricordo che la direttrice deve essere sempre esterna alla parabola. E quindi vuol dire che io dovrò trovare o una parabola così, o una parabola così. Quindi necessariamente non devo scrivere una parabola nella prima forma, quindi y uguale, ma una parabola nella seconda forma, x uguale a y quadro più by più c. E quindi devo tener conto che le coordinate del vertice e del fuoco sono scambiate. Per il resto il nostro sistema si imposta esattamente nello stesso modo. Quindi devo dire che la x del vertice stavolta sarà uguale a meno delta fratto 4a, mentre la y del vertice sarà uguale a meno b fratto 2a. Mi raccomando, ragazzi, ve lo ripeto, stiate attenti al fatto che la parabola sia con asse parallelo all'asse dell'x o delle y. Se non ve lo dice chiaramente il testo vuol dire che c'è un'informazione lì dentro che vi garantisce la sicurezza di avere a che fare con una o con l'altra. E per quanto riguarda la direttrice, vedete, mi basta sostituire l'espressione meno 1 più delta fratto 4a. Adesso, per quanto riguarda la direttrice, mi basta semplicemente andare a sostituire meno 1 più delta fratto 4a. Come sarà impostato quindi il nostro sistema? Meno delta fratto 4a sarà uguale a meno 5 mezzi, poi meno b fratto 2a deve essere uguale a 2, che è la coordinata y del vertice, e per finire, meno 1 più delta fratto 4a deve essere uguale a meno 3 mezzi. E qui procedo esattamente come ho fatto prima. Quindi mi vado a ricavare b dalla seconda, scoprendo che fa meno 4a. Mi vado a ricavare delta dalla prima, che farà 10a, e poi vado a sostituire questo delta nella terza equazione. E quindi mi viene meno 1 più 10a fratto 4a uguale meno 3 mezzi. A questo punto, dalla terza equazione, mi vado a ricavare a. E qui mi basta cambiare disegno a tutti e due, perché sono negativi, e moltiplicare a destra e a sinistra per 4a. così qua se ne va, e lì mi rimane soltanto a. Quindi ottengo 1 più 10a uguale 6a. Da qui ottengo che 4a è uguale a meno 1, e quindi a è uguale a meno un quarto. Quindi mettendo meno un quarto qui e meno un quarto qui, ottengo subito che b è uguale a 1, e che delta è uguale a meno 10 quarti, cioè meno 5 mezzi. A questo punto, spacchettando il delta, ottengo b quadro meno 4c uguale a meno 5 mezzi, vado a mettere 1 al posto della b, e sempre meno un quarto al posto della a, e da lì ottengo c. E mi verrà che c è uguale a meno 7 mezzi. Sono quindi pronto per scrivere la mia equazione, che ricordiamo è l'equazione di una parabola con asse parallelo all'asse delle x. Quindi sarà x uguale a meno un quarto y alla seconda, più y meno 7 mezzi. Ecco qui, ragazzi, vedete che è esattamente la stessa cosa dell'esercizio precedente. Vediamo l'ultimo caso in cui conosciamo fuoco e direttrice. In quest'ultimo caso conosciamo quindi le coordinate del fuoco 0,1, e la direttrice di equazione y uguale meno 3. Vedete che adesso la direttrice è una retta orizzontale, quindi possiamo parlare di parabola con asse parallelo all'asse delle y. E quindi non dobbiamo fare nient'altro che impostare un sistema esattamente come quelli che abbiamo visto in precedenza. Per il fuoco diremo che la x è uguale a meno b fratto 2a, e la y è meno delta fratto 4a. Quindi scriveremo che meno b fratto 2a è uguale a 0, e meno delta fratto 4a è uguale a 1. E poi ci utilizzeremo l'espressione della nostra direttrice, che è meno 1 su delta fratto 4a uguale a meno 3. Ora, vedete, in questo caso il sistema è ancora più facile da risolvere, perché dalla prima mi ricavo subito che b è uguale a 0. Poi ancora una volta mi vado a ricavare delta, che sarà meno 4a, e lo vado a infilare nella terza, ottenendo questa espressione, da cui mi vado a ricavare il valore di a. Quindi ottengo che meno 1 più 4a sarà uguale a meno 12a, e da qui mi ricavo che a è uguale a meno un sedicesimo. Ho già scoperto che b è uguale a 0, mi manca di trovare delta dicendo che b quadro meno 4ac è uguale a meno 4 per meno un sedicesimo, quindi meno un quarto. E da qui mi vado a ricavare il valore di c, che sarà uguale a 1. La nostra parabola avrà quindi espressione y uguale a meno un sedicesimo x alla seconda, poi non c'è la x perché b fa 0, e più 1. Ecco fatto ragazzi, abbiamo finito anche questa. Vi faccio notare solo una piccola cosa. Questo terzo caso poteva essere risolto in un altro modo, cioè utilizzando proprio la definizione di luogo geometrico della parabola. Potevamo quindi prendere un generico punto P di coordinate x, y e dire che la distanza del punto P dal fuoco F doveva essere uguale alla distanza del punto P dalla nostra direttrice. Questo esercizio così com'è l'abbiamo risolto nei primi video che abbiamo dedicato alle parabole. Se non ricordo male è nel video sui primi esercizi. Lo potete fare anche in questo modo se volete, oppure impostate facilmente questo piccolo sistema. Con questa lezione abbiamo concluso ragazzi, per quanto riguarda queste condizioni vi ho detto veramente tutto. Non vi perdete il prossimo video perché vedremo come ricavare l'equazione della parabola se conosco le coordinate del vertice e un punto di appartenenza. Grazie per avermi seguito anche oggi e alla prossima!